Se proprio non si vuole andare con l'italicum corretto dalla Corte Costituzionale, si faccia un'altra legge elettorale e poi si vada al voto. Ecco, all'interno di tutta questa situazione, momento in cui, ripeto, non sappiamo che le leggi elettorale di preciso partoriranno. Il programma, è sempre stato detto che il centrodestra potrà, è l'auspicio per carità di tutti, presentarsi unito alle urne se questo verrà permesso, tra virgolette, dalla legge elettorale, ma soprattutto da una piattaforma programmatica comune. Tutto il resto in questo momento, endorsement, queste piccole furbizie, ripeto, legittime, ma più che comprensibili, secondo noi della Lega Nord non dovrebbero trovare un diritto di cittadinanza per quanto riguarda la discussione in atto.